a dove avemmo rimasto? Di Maio s'ha perso un museo Sushi o non sushi? A Massafra arriva Batman! Oh, 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 buongiorno, buongiorno, benvenuti, benvenuti e ben ritrovati, amici delle spettatori di Votigi Nuestra. Ah, e qui stai dicendo, oh Cristiana, ma qui siamo, chi sei tu, mi sta dicendo quella alla televisione, oh Cristiana si avvicina tutto, tutto, chi è questo signore? Eh no, eh no, come ci sono, qui Votigi Nuestra, siamo tornati, siamo tornati dopo la pausa estiva, diciamo che siamo tornati, perché, oh, l'informazione da essi sempre, bella, brillante, scoppiettante, è solo Votigi Nuestra, diciamo, che può garantirvi la serietà, oh, non siamo cristiani, sì, vi può garantire la serietà, vi può garantire l'imparzialità, perché noi siamo imparziali, non diciamo le cose come sto, non può, no, cioè, senti, che cosa vuol dire, che vuoi dire, che gli altri non dicono, no, non è che gli altri non dicono come stanno le cose, o come non stanno le cose, è che noi diciamo le cose come sto, e in un certo modo, puoi dimacchiare, ci andavano, dice, voi che siete del Ticino-Oeste, e noi ci fai trassi, come, io sono del Ticino-Oeste, non ci fai trassi, ah, sta pure, ah, ma io ti che le dico le cose serie, le cose che vanno bello pulite, e noi ci fai trassi, a forza trassi, e io, e rimaniamo fuori, diciamo, ah, una vanna ma sta, no, ecco, stiamo tranquilli, stiamo bene, stiamo, però la cosa importante è che veniamo direttamente, signori, a casa vostra, veniamo direttamente a casa vostra, e quando meno ve l'aspettate, diciamo, vi vedete, una, una cosa, diciamo, la, una cosa del Ticino-Oeste, che è bella, che a 11 da nottezza, è bella in dialetta l'antica, orse, è bella, vi dovete sentire partecipi di questa città, voi, voi, siete partecipi o non siete partecipi, eh, siete partecipi, e allora, partecipate, partecipate pure, e andiamo con la, andiamo avanti, con questo, T-C-T-C-T-C. Ah, c-oh, è me, io so, sapersi, che cosa sa, come Vincent Sierla? Attenzione, si è smarrito un bambino all'interno dell'ipermercato di nome Luigi, come, Vicenzi, no, 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 Luigi, no, Luigi, no, il pratico, ah, ma, dice la cosa, come è successo? E' successo un quiproquo, e quando succede un quiproquo il capo l'unico può sapere tutto il museo di Castone, ma scusa signora, tu che stai facendo andare a Sapug, tu lo sai che il museo sta a... non lo so, che il museo sta a Gede del Colle? Eh, non lo sai, ma a chi c'è questo museo? Comunque è stato sapendo che a tarda questo museo, c'è il museo che sta aperto ancora, io ieri mi sento alla macchina, che ero dall'altezza Corso Umberto e stava a Gede, ma scusa qua è questo museo? Comunque mi ha detto a Gede Trasso, scusa ma qua è sempre qua il museo. Come ha detto Cristiano, allora stavo guardando, ma che vuole lei di qua? Ho detto, lo volevo sapere che c'è il museo? Eh, certo, certo che c'è il museo. Allora, come c'è qui da... alla televisione ha detto che non c'è? Comunque... No, è successo che praticamente, Luiz, Luiz, Luiz Di Maio, Di Maio... Che andiamo alla sera che sta per Renzi e ora c'è Di Maio, c'è Di Maio, siamo passati da Renzi a Di Maio, da Di Maio a Salvini, Salvini, Renzi a Di Maio, passa l'attacco... Dio di Salvini praticamente da un certo appunto, c'è stato, diciamo, Di Maio, no? Di Maio che ha detto alla televisione che a Taranto... Dice, a Taranto, vi dovete vergognare... Ha detto, ma come a Taranto che non c'è una città come Taranto dove tu scavi? Signora, tu stai facendo di scavi a casa, tu... Si ha tappato il bagno, no signor? Eh, ah, si ha tappato il bagno... C'è faccio quando si ha tappato il bagno? Perché io stappo la bandina, no? Vi chiami l'operaio che viene a fare il lavoro e se lo stappamento non si avvia attraverso il normale processo di evacuazione dell'osteco all'interno del tubo di scarico... Sapete, c'è che succede? Praticamente ha una fana a squasciare. E allora, quando voi squasciate, trovate il rischio, caro signor, che vi trovate un nuovo assetto, e ora vi chiedete una scodella, e ora vi chiedete un'odice di qualche re greca che è rimasta incastretta da sotto... Non lo so, ma di chi può essere, e quindi praticamente... E insomma, che ha detto Di Maio, giustamente, che è una persona che sa le cose, Di Maio ha detto che a Tana dice che dove scavi c'è l'aria, c'è la Grecia, proprio si sente l'odore della Grecia qua. Tu apri la finestra e si sente l'odore della Grecia, Maio ha l'odore della Grecia. Ha detto, ma è possibile, ha detto che una città come Tana, dove c'è l'odore, dove tu scavi e trovi un salsizzo greco, Qua non c'è il museo, dice, non c'è un museo all'altezza, e Di Maio... Una cosa che abbiamo, Di Maio, una cosa che abbiamo... Un castello Aragonese, e un castello... Poi c'è tutto il lungomare, che è bello, però... Il palazzo del governo, tutto bello, quelle cose... E sta pure il museo, e c'è ditta, ditta che non c'è. No, c'è, 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 Di Maio, c'è un museo... Poi c'è un bello museo, stai pure quei uomini così... Che stanno gioiare gli ori... Gli ori di Taranto stanno, Di Maio, di Maio... Noi gli ori ce li abbia tu, loro te li diamo a casa tu... Dalla cassaforte, alla cassaforte... E noi li diamo al museo... Ognuno ce li mette dove c'è... C'è tante, poi c'è pure l'atleta di Taranto, stanno... A capa di Zeus, di Zeus, stanno tutte le cape che vuoi trovare là, Di Maio... Stanno tutte le cape, e non lo sapevo, perché capa... E vabbè, e quindi, ora lo sai... Quando avevi napoli, stiamo avuta qua, Gigi... Ah, mica ti porti... Ti porti, ti faccio da qui, insomma, da qui, insomma... Non esageri, ti faccio da qui, ti faccio vedere la tua biglietteria, no... Poi stai a fare trasi pure gratis e non paghi... Quindi, Di Maio, per cortesia, il museo ce l'abbiamo... Ah... Sushi... Voi, eh... Signora, quando fa caldo, voi che fate? Eh... Signore, che fate quando fa caldo? Vi sciusciate, vi sciusciate... Allora, vi piace che vi sciusciate? Vi c'è il sushi... O non sushi... Sushi o non sushi... Sushi o non sushi... Sushi o non sushi... Sushi o non sushi... Stavo praticamente... Stavo in un bello ristorante... Diciamo, japanese, cinese... A preoccupare... Perché facevo tutte le cose di... Di fresca, bella, di pesce fresco... Che la tua... Non si capiva... Al Borg... Però non si sa qual è... Eh... Voi il museo... Ha chiesto... O ha morto il padrone... Oppure... È arrivata la... La capitaneria di Porto... Il commissario... Sono arrivato e tu... Sono entrato là... Dice... Sì... Prego... Potete accomodare questa... No... Dice... No, veramente... Non siamo venuti a fare... Mangiare qua... Siamo venuti a fare i controlli... Siamo venuti a controllare... Eh... E se... Dovete controllare... Dovete controllare... Così dovete controllare... Così dovete controllare... Dovete accomodare di qualche... Lì... Cucina... Deposito... E poi... Noi... Hanno... Sì... Ho tutto l'operto... Ho... Fricorevole... Poi hanno aperto... E stavano... Ho chiudato... Oh... Con questo cadore... C'era un tuo padrone... Insomma... Hanno trovato un po' diciamo... Di materiale... Qualche... Qualche... Qualche quinta... Diciamo... Un quintale... Di roba che non era proprio... In... In un stato di conservazione... Proprio idone... Diciamo... Non è che si è respirata... Stavano i salmone... avevano già richiesto la pari indica lo dovevano togliere da dove stava sepolto e lo dovevano mettere in un'altra c'era un salmone un po' datato diciamo che era morto da un bel po' dovevano fare le spiante come si chi vuole una porta le potevano a casa e la metterlo dall'ossario che è passato il tema e quello era il salmone insomma diciamo che non c'era proprio del pesce così fresco se proprio dobbiamo dicere un po' di materiale ma chi dà il tuo sorgere quando hanno aperto la retta che dormiva il cristiano si ha lamentato e ha detto come sta chiudita qua e quindi hanno chiuso che il cristiano si stava lamentando quindi quando si mangia diciamo a queste cose cerchiamo di dire al proprietario al signor proprietario del ristorante prego dimmi pure se la roba cattina qua stiamo sicuri che poi c'è andata nell'intossicazione che c'è una macchia ciocchia un po' a donna macchia ciocchia ma ha mangiato una bella fetta di pane con il pomodoro a me vabbè come disse a quelli mi chiamano una bella zucca di cozza e poi c'è qualcosa che è un bicchiere di vino che quello non guasta mai grazie ecco qua sta intervenendo quando non ce la facciamo da solo dobbiamo chiedere aiuto perché bisogna chiedere aiuto tu non puoi fare tutto nella vita si può fare o non si può fare si può fare o non si può fare si può fare nel senso che a Massavra c'è stato il capogruppo c'è il capogruppo a Massavra perché voi credete c'è un capogruppo del PD c'è il capogruppo del PD del PD che si chiama Ida Cardillo la signora bello cognome che si vorrebbe del capogruppo del PD a Massavra Ida Cardillo che ha detto che diciamo cinquettano diciamo tra un cos'è e l'altro ha detto che è andato dal sindaco ha detto scusa all'assessore dal sindaco l'assessore ha detto che nella città di Massavra ci vuole la disinfestazione perché stanno le zanzare stanno le zanzare ma non una non c'è una zanzare una zanzare una zanzare una botta acide tali no ci sono zanzare di varie nature di varie metrature ce ne sono zanzare diciamo di un certo livello zanzare residenziale e dice che non devono e allora ci ha fatto che ha pensato siccome le zanzare hanno un nemico giurato delle zanzare quale? Abia Strina dove sta abia sto noi diciamo della natura qua stiamo in natura qua c'è la natura qua che viene in soccorso voi quando vi sentite perduti chiamate alla natura cioè chiamate a fare la carabinia chiamate alla natura e praticamente c'è questo fatto della natura che c'è il pipistrella il bat il bat che non è il bat diciamo in inglese si chiama pipistrella ecco pipistrella o meglio pipistrella in inglese si chiama bat se voi al bat attaccate man fate il batman che sarebbe no batman sarebbe un po' cristiano l'uomo pipistrella chiamata a batman perché dice che l'hanno fa sparire tutte queste zanzare visto che da uscite che non si muove alla pala la zanzare ha detto il capo gruppo ora mettiamo un bel pipistrella un bel pipistrella lo puoi andare a pechino dal ristorante genese da prima e stanno tranquilli e non succede niente e poi dice che così può essere capo da buono che la copia pipistrella in tutta ecologia in tutta salute senza andare a buttare dai piame le zanzare da mezzo e si respira si respira ma sapere senza zanzare ma buona mia aia ma ste punce aia la patra zanzare chiamate i pipistrelli chiamali chiamali pipistrelli chiamali pipistrelli chiamali pipistrello e non si capisce e non si capisce che come vi dice ma che non è che solo qua che vi pensavate voi cari cittadini di Taranto cari cittadini di Taranto che la puzza ce l'avevate solo qua queste credevate voi che ci avevate la puzza sulla tarda non è vero non è vero ci hanno tolto anche questo primato di città che puzza più delle altre perché è così che ogni tanto si sente qualche bella zaffa da cassa di dire proprio che uno si riempie dei polmoni poi facciamo starluti a pezzi o come si chiama la piastra a casa che uno ha respirato ci sono casi di gente che con una litata si accende le sigarette quindi non dobbiamo dire vabbè comunque c'è cosa e ora c'è questa e dice questa e dice la puzza la cieca dice la pulò volevo dire pure a Pulsano a Pulsano in alcune strade diciamo c'è stato il consigliere comunale di Pulsano Angelo Di Lene che ha detto che a Pulsano si sentono in alcune strade di cattivo a Dittuna eh non c'è chi sta a dire no non si sta a dire praticamente questi odori maleodorando queste puzze queste cose dice che ha detto pure lui ha detto ma che so sta un po' asciutto vedi che devi provvedere qua che la puzza non si può stacchiudere e ora dice che stanno provvedendo e hanno fatto una bella fletta con l'acqua decolonica vanno a spruzzare così si ricrea diciamo ecco si ricrea hanno detto la prima cosa che era scusate ma la cristiana è andata odorando tutta a po' tutta a po' si lavano quindi c'è un odore maleodore che proviene da qualche scarica di qualche cosa comunque subito il pronto intervento a Pulsano mi sembra che la puzza è passata andate in pace eeeh capo state tranquilli a casa posta state sentite a me a casa ma dicevi che c'è così state i caci faccio e mangiare una pizza faccio e mangiare una pizza faccio e succedere va a succedere quello che è successo a Roma che c'era una a Trastevere che era buona come sta mangiando una pizza buona sta fatta lì che la pizza qua tutta piena di mozzarella mentre stai mangiando un cristiano a passare un marocchino registrato al secolo di 49 anni sappi che c'era la pizza una scappata e la pizza qua dove sta non c'è sta la pizza praticamente sta sparita la pizza un cristiano si mangia l'hanno trovata l'hanno arrestata hanno detto lei è un ladro di pizza ha detto voi siete ladro di pizza e di pizza dovete morire praticamente l'hanno costretta a mangiare sapendo no l'hanno punita l'hanno date le totte sulle mani hanno detto non ti rubare più le pezze perché poi come facciamo noi a servire le pezze se tu te le rubi questo è il senso e insomma l'hanno condannata a mangiarsene niente l'hanno portata l'hanno arrestata perché ha creato problemi poi questa l'hanno arrestata siccome se stai mangiando pezze ha reagito brutta e l'hanno arrestata per altri motivi tra cui sversamento di pezze insomma stai in calito ma non pensi che se la mangia più la pizza da oggi non toccherò più una pizza e ora una vasta schedina uno due e x x quando c'era la schedina c'era la schedina c'era la schedina allora si metteva uno due diciamo uno si vinceva la squadra di casa due si vinceva la squadra x si vinceva la x diciamo non è più come prima cioè la x è successa che praticamente a new york a new york new york praticamente quando c'è uno non è sicuro di quello che ha fatto se è maschio o se è femmina no allora c'è m f no e poi è una misa x cioè c'è c'è ma c'è qui che stupicino c'è cos'è diciamo maschio si può mettere la x così diciamo dopo decide se diventa maschio diventa femmina a seconda di come non ve lo dico c'è accompagnato Salvini non ve lo dico non ve lo dico una sabato sto come sto che ha fatto tanto sulle certe faccate della cosa hanno detto i primi maschi le femmina insomma qua caro Salvini tu uno ne fai tu e quelle gente ne pensano quindi non ti preoccupare devi mettere la x quando nasce il figlio non so se domani deciderai di fare un figlio andrai a New York a New York ha un figlio che la signora di Soard partorisce domani che decide vicepresidente qua del Consiglio e decide di fare il figlio a New York devi stare attenti dice ah può essere schiappur la metà x quindi pareggio e non state pari state pace state pace e non fare cattivo sangue Salvini Salvini non fare cattivo sangue che non è il caso se nasce uno metti un se invece due due se no x pareggio e stanno tutti contenti a posto oh e parlamo un peccato sport parlamo un peccato sport perché lo sport ci vuole lo sport è importante e qual è lo sport che a noi ci affascina di più a me diciamo il calcio il calcio diciamo è quello che prende di più visto che la nazionale ultimamente non è che hanno state di proprio soddisfazione ci rivolgiamo al Tana il Tana che partita ha sprombattuto devo dire la verità ma a dispiace che non ci hanno messo bene oggi l'anno nostro perché stai spettando che avevamo fatto il derby però secondo me è pure meglio che ci ha così se il mani è una concorrente che ci ha bene sicuro che se prima poi l'hanno spingi ora si ha messo pure della Lorenza che faccia il film e noi vediamo quanto è il film facciamo qua come sempre che il Tana rappresenta insieme al Cerignoli e al Picherno e al Picherno al Picherno al Picherno una delle favorite diciamo di questo di questo come si di questo campionato di Serie D poi sarà accattata pure una bella giocatura straniera si chiama Carlos Turu 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 c'è un Turu c'è un Turu c'è un Turu a cazzo con le Curn e quindi praticamente Turu Biason Biason Argentino e qui l'argentino è una puesta l'argentino centrocampista questa tenuta ogni cosce tanto fa il suo pallone a destra insomma Biason ha detto che è competitivo ha detto che si vuole manarello ha detto si era giù ma ti è spiegato il calzaro manca l'hanno fatta a comanzare ma come il calcio è così quando le cose vanno male paga sempre purtroppo la legge diciamo la legge la legge paga il calcio e quindi si paga diciamo si paga il calcio che paga l'allenatura e quindi paga il calzaro e ora queste panarelli vediamo come va panarelli forza panarelli forza taranto forza panarelli e forza taranto forza 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 amici telespettatori ci ringrazio vi ringrazio per aver avuto la pazienza per aver avuto la voglia soprattutto perché ci avete aspettato ci avete aspettato ogni tempo fermavo qualche di loro vado a ripetare la vita ha cominciato abbiamo cominciato abbiamo cominciato che alla fine meglio tardi che mai meglio tardi con 2T che mai con 2M quindi abbiamo cominciato e speriamo di non finire di continuare sempre a darvi notizie fresche notizie fresche 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 e sempre imparziale vi c'è l'uomo di Ginoest aspettando fuori siamo sempre imparziali alla prossima